amiche amici come sempre dico ben approdati nel canale intanto vi annuncio immediatamente che quanto detto nel titolo ahimè rispecchia concretamente quello che è l'argomento che andiamo a trattare subito subito parliamo di caffettiere caffettiere come questa qua io questa nella fattispecie l'ho comprata alcuni anni fa in un supermercato carfour quindi una provenienza non prettamente con gli occhi al mandorla teoricamente insomma in questa catena di supermercati potremmo dovremmo acquistare prodotti abbastanza sicuri per la salute o perlomeno che hanno passato alcuni controlli comunque sia l'ho usata pochissimo se non un paio di volte forse addirittura una volta per rendermi conto fortunatamente che era troppo capiente troppo grande per le mie esigenze questa è una 4 5 tazze io con la mia due tazze che uso tutti i giorni la mattina per darmi una svegliata ne ho da vendere fatto sta che fortunatamente ripeto questa caffettiera è caduta nel dimenticatoio della mia cucina l'ho conservata in in un cassetto e lì è rimasta fino a qualche giorno fa quando dovendo produrre un altro video nel quale avevo la necessità di riempire un contenitore di calcare e poi far vedere come veniva pulito con una pulitrice a ultrasuoni avevo pensato di riempire periodicamente la parte sottostante della caffettiera che non usavo e messa sul termosifone far depositare il calcare nel fondo questo evento così fortuito mi ha portato curiosamente a osservare proprio il fondo all'interno del del compartimento che notoriamente solitamente si va a riempire d'acqua per poi insomma produrre il caffè e ho notato una cosa che lì per lì durante tutte le volte che l'ho manipolata non avevo mai notato praticamente le pareti interne di questo contenitore recipiente insomma chiamiamolo come vogliamo sono verniciate e all'inizio non ci credevo perché mi sembrava una cosa veramente assurda ho detto no vabbè sarà l'alluminio che questo colore qua eccetera poi ovviamente mi sono dovuto rendere a rendere scusate all'evidenza e notare anche dei piccoli difetti nella verniciatura o forse sono difetti che si sono venuti a creare con quelle due tre usate che ho realizzato c'è anche la marca qua monix 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 c'è anche una marca qua che si intravede comunque sia alla fine praticamente vi dicevo è tutto verniciato all'interno c'è una vernice grigia simil simil metallo e se ci si fa caso sul fondo ci sono anche dei punti in cui la vernice è saltata ora non so se si percepisce con la qualità di luce che vi posso offrire in questo momento ma vi assicuro che ci sono alcuni punti in cui la vernice è saltata non so se si vede anche qua dove è un pochino rugosa vedete come è screpolata e questo mi ha sorpreso oltremodo perché poi dico ma che cavolo di prodotto avevo dentro la mia cucina pericolosissimo ovviamente ci sarà qualcuno che dirà ma guarda che anche l'alluminio è tossico è velenoso la caffettiera deve essere in acciaio di questo materiale così colà poi ognuno ha le sue le sue verità le sue teorie le sue cose ok però fatto sta che penso converrete tutti quanti con me che la vernice è il peggio del peggio anche se si potrebbe pensare ah ma tanto qua c'è il filtrino riempito di polvere di caffè di caffè macinato che fa da filtro e non ci fa arrivare gli effetti malefici della vernice qua dentro posta ovviamente così come arriva l'acqua poi nella tazzina che ci andiamo a bere arriveranno comunque dei residui di queste vernici che ripeto io ho usato due volte forse questa tazzina e già vedo delle delle parti saltate la cosa è a dir poco sconvolgente più ci più mi viene lo sdegno poi ad esempio se uno non ci fa nemmeno caso e gli capita di dimenticarsi qualche volta e non mi dite che non è capitato anche a voi la caffettiera sul fuoco per più tempo necessario e la parte di sotto si esavorisce di acqua diventa arroventata beh in quel caso evidentemente quando l'alluminio diventa arroventato la vernice che viene applicata all'interno si stacca si stacca in uno o più punti poi ovviamente quel caffè magari non ce lo berremo subito ce ne faremo un altro perché il primo c'è venuto cattivo bruciato eccetera ripeteremo ma chiaramente a lungo andare visto che berci il caffè farci il caffè con la caffettiera è un'azione periodica quotidiana che si fa più volte al giorno beh alla fine voglio dire questa porcheria chimica della vernice che si va a staccare ce la beviamo tutta quanta noi entra nel nostro organismo e non si sa nemmeno bene che razza di porcheria ripeto è dove va a parare ovviamente la probabilità altissima è che vada a inficiare i nostri centri nervosi comunque sia ci va a attaccare va a deteriorare la nostra salute fate semplicemente caso se all'interno della vostra caffettiera avete questo strato di riporto lasciate stare se nella confezione c'è scritto riporto al teflon riporto riporto qualsiasi cosa sono cose che non ci dovrebbero essere ripeto l'alluminio è sì tossico in determinate quantità e concentrazioni si spera che comunque con tutto quello che ingurgitiamo eccetera risulti una percentuale estremamente esigua però ovviamente quello che è una una vernice o una teflonatura è ancora più pericoloso facciamoci caso di questi ultimi tempi tanto si parla di salute di sicurezza questa potrebbe essere una nemica che puntualmente non consideriamo ma va attenzionato d'accordo con questo è tutto io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e sopportato iscrivetevi al canale se cosine di questo tipo anche vi possono risultare di interesse ora nel canale andrò a inserire nuovi temi un pochino più interessanti anche per una più ampia fascia di utenza e poi ci becchiamo nei prossimi video d'accordo un saluto e alla prossima ciao 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 ciao